Eccoci qui, ve lo dico, sono molto in ansia perché la moda, quella di cui mi occupo io, e il giornalismo di moda è sempre stata considerata una cosa estremamente frivola. Quindi io mi ritrovo qui oggi a cercare di dimostrarvi il contrario. Vediamo se ci riusciamo. Allora, il fast fashion ormai che è un male lo sappiamo più o meno tutti. Che però Zara ed H&M condividano una lista di fornitori con alcune importantissime Maison o che il Made in Italy proprio a livello legale come concezione sia un'idea abbastanza fallace, beh, sono dei concetti assai più complessi con i quali non vi ammorberò oggi con il sollievo delle blasonate Maison di qui sopra. Ma di cosa parliamo quando parliamo di giornalismo slow, approccio slow al giornalismo di moda? Quello di cui sono venuta a parlarvi io non riguarda tanto il modo bulimico nel quale consumiamo i vestiti, ma il modo altrettanto bulimico nel quale consumiamo le notizie relative ai vestiti. Ah, aiuto, ci siamo. Quando, d'altronde, poi nel mondo della comunicazione di recente, da dieci anni a questa parte più o meno, sono entrati social che hanno reso ogni mediocre news meritevole di una menzione nel tentativo di raccattare qualche like sull'onda del clickbait e già tutti questi inglesismi dovrebbero farvi capire l'alto livello di fuffa della questione, che è la stessa che percepite quando vi interfacciate per più di 15 secondi con un bilanese imbruttito medio. Ecco. Però la realtà è che effettivamente la velocità con la quale un algoritmo apparentemente onnisciente ci propone dei contenuti ci impedisce non solo di concentrarci su quel singolo di contenuto, ma anche, ad origine, di selezionare quel contenuto seguendo quello che è più adatto a noi, che ci piace di più, ci interessa, superando le trappole di titoli apparentemente succulenti che poi non vogliono dire niente, oppure anche di quello che si chiama doom scrolling, cioè lo scorrimento continuo e infinito del nostro feed che alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato recentemente, provoca l'aumento della depressione. First reaction shock. Non l'avrebbe mai detto nessuno. Eh sì. Però anche chi sarà all'altra parte, quindi chi come me deve confezionare quelle informazioni per voi seguendo poi quella che è l'identità del proprio giornale, perché ogni giornale in teoria ha una sua identità, si trova in un momento di grossissima pressione, perché il nostro mestiere, quello dei giornalisti, è pagato sempre meno. E la valuta, anzi la metrica, con la quale viene valutata la bontà del tuo lavoro, quando lo fai sul web, è se il tuo pezzo è andato bene sui social. Quindi capite bene che siete sotto pressione, siete disperati come esploratori del Klondike alla ricerca di quella news che potrebbe andare virale, scandagliate, delle pietruzze luccicanti, ma che non valgono niente, quando dovreste in realtà concentrarvi sulla vena della miniera dietro di voi, che potrebbe rendervi non ricchi, perché spoiler nel giornalismo non si diventa mai più ricchi, ma autorevoli, che però vi richiede più tempo. Oggi in realtà siamo ossessionati da tutto quanto è virale, da tutto quanto è di tendenza, sia come giornalisti che come fruitori di notizie, di tutto ciò che è di tendenza, anzi no, nella moda non si dice più di tendenza, nella moda si dice è un core. Goblin core, gorp core, norm core, regency core, victorian core, tennis core, chi più ne ha più ne metta. Siamo talmente ossessionati da questi core, da tutto ciò che può andare virale, che ci dimentichiamo, anche come lettori e come giornalisti, che ciò che diventa virale sui social non diventa necessariamente una tendenza anche nella vita reale, nel mondo offline. Di conseguenza succede che a volte ci troviamo stupiti di fronte a dei fenomeni di rivoluzione culturale che si presentano di fronte a noi in una forma di interezza compiuta. Ieri non c'erano, oggi ci sono. Non ne abbiamo capito nessuna delle fasi dell'evoluzione. Come è successo? Vi faccio un esempio. Come giornalista di moda e di costume, un esempio che mi provoca un travaso di bile non indifferente è quando ultimamente sentite le persone che sono anche informate su quella che è la moda, su ciò che è di tendenza a far dono un core, che vi dice Hai visto Farrello? Ha riportato di moda e cattro. Ora, ogni volta che da qualche parte nel mondo viene pronunciata questa frase, un giornalista di moda e costume muore. Ciò di cui parlano queste persone apparentemente sapute di moda, ecco, è l'ultima sfilata che Farrell, che è direttore creativo di Louis Vuitton, uomo, oltre a essere un produttore discografico, un musicista, un artista, ha mandato in scena a Parigi. Evidentemente, e nella realtà, effettivamente, ha mandato in scena tutti i troppi vestimentari del country, no? Quindi jeans con le frange, cappelli da cowboy, stivali da cowboy, facendoli indossare però non solo ad uomini bianchi, ma anche agli uomini nativi americani, quindi i diretti discendenti degli storici antagonisti dei cowboy, e anche a degli uomini neri, che invece, storicamente, per quanto la nostra memoria selettiva lo dimentichi, sono stati dei cowboy, sia nei ranch, ma anche in guerra. Nel 1866 venne formato un intero reggimento di cavalleria dedicato, composto solo da uomini afroamericani, che dovevano poi andare a combattere quelli che erano i nativi, no? E tanto che i nativi, che questi uomini, appunto, lo dovettero combattere, definirono questi soldati Buffalo Soldier. Sì, quelli della canzone di Bob Marley. Ciò che queste persone che pensano che farà il sia l'araldo del country si dimenticano, è che il country, come genere vestimentario, musicale, ma anche un set valoriale, perché tutte le tendenze culturali non sono solo fatte di vestiti, sono fatte anche di valori, accompagnati a quelle tendenze culturali, beh, era qui, in The Room With Us, tipo, da circa cinque anni. Cioè da quando, nel 2018, Paramount Network, l'ente televisiva, tira fuori una serie che si chiama Yellowstone, dove c'è Kevin Costner, che è questo rancero del Montana contemporaneo, che deve proteggere i suoi possedimenti da una serie di avversari che glieli vorrebbero sottrarre. Ci sono gli avidi finanzieri che vorrebbero trasformare quelle lande incontaminate in uno ski resort, ci sono i nativi americani che reclamano quelle terre come originariamente loro. Kevin Costner fa tutto questo con l'aiuto di tre figli, uno più psicologicamente instabile dell'altro. Succession, ma con i cavalli. Non l'ho chiamato io così, lo hanno chiamato negli Stati Uniti così, per certificare quello che è stato un immenso successo, che ha portato Yellowstone a produrre già due prequel, cioè due serie staccate dalla narrazione principale, ma collegate, perché raccontano le avventure delle generazioni precedenti della famiglia Datton, fino ad arrivare alla scoperta del West. Conseguenzialmente, però, quello che ha prodotto Yellowstone nei cinque anni successivi nei quali è stato prodotto, è stato in maniera certificata un aumento del 300% delle ricerche online di stivali da cowboy. 2018. Ora voi direte, certo, gli Stati Uniti sono ossessionati dalla storia della loro genesi, sin dai tempi dei film di John Wayne, dei cowboy contro i nativi americani, che però quel fenomeno interessi anche altre fasce di popolazione, non geograficamente situate lì. Beh, questo è interessante. E in effetti è già successo, perché nel 2019 è venuto fuori l'album d'esordio di questo cantante sudafricano, che si chiama Orville Peck, e che è un cantante appunto sudafricano, che si definisce come country. Country in purezza, quindi si veste come i cantanti country. pantaloni con le frange, anche i cappelli da cowboy con le frange, perché vuole celare la sua identità, perché l'identità di Orville Peck più o meno è segreta, anche se tutti sanno chi è. Questo set rigoroso vestimentario, però, viene infuso di un sapore, diciamo così, quelli della moda direbbero un flair, noi diciamo un sapore, che guarda ad altri universi, guarda alle illustrazioni di Tom Holland, guarda al mondo del BDSM, è un sapore omoerotico, perché Orville Peck è un uomo dichiaratamente gay. Ora, non so quanto c'è da vostro agio con il mondo del country, però sappiamo tutti che non è esattamente progressista. Quindi che un uomo gay reclami quell'universo estetico come anche suo, ha qualcosa di rivoluzionario e guarda ad altre fasce di popolazione. Qualcosa di rivoluzionario lo aveva anche fatto un altro cantante qualche mese prima di lui. Fine 2018 viene fuori Whole Town Road, canzone di questo artista che si chiama Lil Nas X, classe 1999. Una canzone che viene definita come metà, un genere mix, country, rap. Quello che ha di rivoluzionario Lil Nas X è che un uomo nero, di nuovo, non so quanto siete a vostro agio con il country, non è esattamente un genere progressista. Quindi che un uomo nero reclami quel universo estetico per sé e lo faccia con cognizione di causa, perché come vi ho detto, gli uomini neri storicamente sono stati dei cowboy, beh ha qualcosa di rivoluzionario. E in effetti quella canzone ha incontrato una serie di problemi, alcune radio country americane e si sono rifiutate di passarla, adducendo la motivazione un po' patetica che quella canzone non era country in purezza. La realtà era che era Lil Nas X a non essere bianco in purezza, anzi a non esserlo proprio. Nonostante c'è, quella canzone ha avuto un successo favoloso, ha venduto 18,4 milioni di copie, certificata 16 volte disco di platino, disco più, disco meno, ed è arrivata al primo posto di classifiche di paesi storicamente non interessati al country, Belgio, Francia, Germania, Danimarca, Australia, ampliando di moltissimo il bacino d'utenza di quello che è un genere che nasce in un paese, no? E si pensava che rimanesse solo lì. Ma direte voi, però, come è arrivata a noi in Europa, addirittura in Italia? Beh, pensate agli anni della pandemia, quali nei quali ci siamo inventati qualunque tipo di divertissement per passare piacevolmente le ore che eravamo costretti a stare in casa. Tra le tante attività che abbiamo fatto, una tra le più divertenti, forse anche più balzane, è stata metterci a panificare, produrre lievitati, come se fossimo l'ora Ingalls e vivessimo nella casa della prateria. L'abbiamo fatto tutti, non ce ne vergogniamo, ne siamo usciti, non migliori, ma ne siamo usciti. Quando lo abbiamo fatto, abbiamo indossato o abbiamo sognato di indossare dei vestiti in lino a pizzo sangallo per le donne, delle camice a quadri da taglialegna del Vermont per gli uomini o anche da hipster di isola che più o meno si vestono uguali. E lo abbiamo fatto ascoltando Folklore di Taylor Swift, che è un album che è uscito proprio nel 2020. Tutto questo immaginario estetico che va di pari passo appunto con un set di valori che in quel caso erano il recupero delle antiche tradizioni, il farsi il pane da soli, il recupero di un rapporto con i grandi spazi aperti che in quel momento ovviamente c'erano negati, ha un nome, finisce con un core, ma facciamocilo andare bene, si chiama Cottage Core, che è un universo estetico molto vicino a quello del country. Arriviamo però infine a noi, solo quest'anno, febbraio 2024, Lana Del Rey, una delle autrici più rilevanti del contemporaneo, ha annunciato che il suo prossimo album uscirà a settembre, dopo quattro anni di lavorazione, si chiamerà Lasso e sarà un album country. A marzo, lo sanno anche i muri, è uscito l'album di Beyoncé, Cowboy Carter, che non è un album country, è un album di Beyoncé, che però usa il country per superare, sconfessare una serie di barriere razziali e di genere. Ora, tutto questo, farai la differenza nostra, l'ha sentito, l'ho ascoltato, l'ho aspettato, l'ho aspettato, l'ho aspettato che questo fenomeno che nasceva così piccolo una slavina, e poi, quando è stato il momento giusto, l'ho appiazzato sulla passerella più mediaticamente importante di tutte, dandogli una spinta propulsiva che nessuno avrebbe potuto dargli come lui, trasformando il country da argomento di pochi a un argomento mainstream. Dove eravamo noi, invece, che abbiamo sicuramente molto più tempo libero di Farrell, che è un multimilionario, artista, oltre che essere creative director, mentre questo fenomeno si prendeva 5 anni di tempo per venire alla maturazione, non 5 giorni. Ve lo dico io cosa stavamo facendo. Noi stavamo leggendo gli articoli sui sette stivali da usare per l'inverno, oppure stavamo dando i nostri dati social ad una piattaforma, perché ci sarebbe un sacco piaciuto sapere come saremmo sembrati se fossimo andati in un liceo americano negli anni 90 e avessimo dovuto fare la foto dell'annuario. La realtà è che, c'è da ridere effettivamente, perché la colpa non è soltanto nostra, perché è la stessa moda il sistema che la governa e la finanza, no? Che sembra dirci che la velocità è la chiave apparente del successo, che le riflessioni si fanno se avanza tempo, che le risignificazioni, i cambi di identità sono giusti e hanno senso solo se c'è un più 20% di fronte alle entrate trimestrali del brand e che se una collezione, una sola, non va bene quanto c'eravamo aspettati o va meno bene di quella precedente, beh, il designer si cambia e si prende un designer più giovane. Questo approccio che sublima la velocità sconfessa due dati, uno più importante dell'altro. Uno è un dato banalmente storico, cioè che siamo nel 2024, tra due guerre, all'alba di disordini mondiali, probabilmente domani c'è l'Armageddon e la nostra priorità non credo che sia sapere quale sarà la prossima collezione di Dior che non ci potremo comprare. L'altro dato è molto più importante che ci nega il nostro diritto inalienabile a prenderci tempo, ascoltare il mondo, rifletterci e solo dopo capire come porci rispetto adesso. La realtà, però, è che la velocità quando analizziamo dei fenomeni culturali di rivoluzione culturale perché tutto ciò che amplia il significato di un genere lo rende più vicino anche ad altri gruppi è una rivoluzione culturale. La verità è solo una, che la velocità ci serve se siamo use in bolt sulla linea del traguardo oppure se abbiamo vinto al superanalotto e dobbiamo trasferire la residenza fiscale svizzera. Solo quello. Perché la lentezza non è un lusso, come vogliono farci credere certe pubblicità un po' progresso che vedete adesso. La lentezza è imperativa per rispondere ad un mondo che ormai è troppo complesso e stratificato e si rifiuta di farsi semplificare e anche perché tutto quello che c'è là in mezzo tra John Dutton Ranciro del Montana e Farrell che ha reinventato il country è molto più interessante perché non parla soltanto di Lil Nas X e Orville Peck che sconfiggono delle barriere, delle stereotipie, di Beyoncé che fa Beyoncé e lo farà fino alla fine dei nostri giorni, ma parlano anche di noi, del nostro desiderio di immaginarci diversi, forse migliori, di vestirci in lino o pizzo sangallo anche se ci sta male con i quadri, anche se ci allargano, non per cambiare vestiti, ma per cambiare le nostre proiezioni nel mondo, per darci delle nuove possibilità. Perché in un sistema della comunicazione che ha tutto l'interesse a tenerci in questo loop continuo di velocità consumistico, capitalistico, che alla fine ci lascia solo svuotati e confusi, la lentezza è l'unica arma di resistenza pacifica che abbiamo, perché l'errore di oggi forse è l'unica alternativa possibile di domani, ma ci vuole tempo per capirlo. Grazie. 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 Grazie.